Elisabetta II diventa regina d'Inghilterra, è giovanissima, sale al trono dopo la morte del padre Giorgio VI e diventa anche capo del Commonwealth e governatore supremo della Chiesa Anglicana. Il suo regno è il più lungo di tutta la storia britannica ed è il più lungo in assoluto per una regina. Icona di stile regale ma anche icona pop, Elisabetta II ha guidato la Gran Bretagna attraverso momenti durissimi, la morte di Lady Diana, la Brexit, guadagnandosi l'affetto dei suoi sudditi, non senza un senso dello humor tutto inglese. Ne diede prova nel 2012, per esempio, recitando per il cortometraggio realizzato in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra. La regina appare accanto a James Bond. Non ha torto, insomma, chi oggi parla di una nuova stagione elisabettiana.